E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! E' lo sfiato! Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo. Questa è la tua sfida. Questo è VRC3. E' amici di Youtube e amici di Fruitlab, bentornati qui con un nuovissimo video di VRC3, modalità Road Glory. Siamo nell'area francese. Il nostro avversario sarà questo Pierre Leroy. Sarà forse figlio di Philippe Leroy. Forse. Ok, bando le cianci e andiamo subito nel video. Buona visione. Ciao a tutti! Prima o poi, tutti i più grandi piloti si sono dovuti confrontare con il rally di Monte Carlo. Il suo percorso tra le montagne regala spettacolari vedute, mentre l'asfalto ghiacciato e i numerosi tornanti lo rendono uno dei rally più tecnici del mondiale. In sinistra 4. Poi tornante destra, freno a mano. 40 e tornante sinistra. Destra 6, apri. Sinistra 4. Tornante destra, 40 e tornante sinistra. 40 e tornante sinistra. 40, tornante sinistra, apri e sinistra 5. 60, sinistra 3, intornante destra. Sinistra 4. 40, tornante sinistra e tornante destra. Barriera all'interno, poi sinistra 5. La siamo a vista brutta. 40, sinistra 4. Muro all'esterno e destra 3, taglia. 60, sinistra 3. Non tagliare, marca piede. Destra 5, in sinistra 4, stringe. 40, sinistra 4. Poi tornante destra, dopo edifici. Apri, 80. Destra 4, in sinistra 5. Poi destra 4, in sinistra 4 e destra 4. Sinistra 3, apri. 100, destra 2, sotto il ponte, muro all'esterno. Sinistra 4, in sinistra 3 e sinistra 4, lunga. 40, tornante sinistra. 40, poi tornante destra, freno a mano. 40, poi destra 3, chiude. 60, barriera all'interno. Poi sinistra 3, lunga, apri. 40, sinistra 5 e 100. In destra 6, molto lunga. Tornante sinistra. 80, sinistra 6, muro all'interno. Poi tornante destra, freno a mano. 100, apri. Destra 3, molto stretta, barriera all'esterno. Destra 5, in sinistra 6. 40, poi destra 5. Destra 3, poi sinistra 3. Tornante sinistra, barriera all'esterno e destra 3. Sinistra 3, poi tornante destra. 40, destra 5, apri. Sinistra 5. Destra 3 e sinistra 4. Traguardo. 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 Grazie a tutti. 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 gli eventi. a tutti. 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 di questo video nell'area francese contro Pierre Leroy, quello lì io vi do appuntamento al prossimo video sempre con VRC3 modalità Rod de Glory e niente un saluto un abbraccio ciao a tutti.